Meno male che siete qui, cuccioli! abbiamo un problema elettrico al municipio un generatore ha perso potenza e ora siamo al buio gli abitanti non vedono niente e qualcuno potrebbe farsi male sky dovrai usare il tuo drone per sostituire le batterie scariche nei lampioni stradali rocky tu ti occuperai della sostituzione dei fusibili al lavoro bow patrol al lavoro bow patrol sembra che manchino dei componenti elettrici qui pensiamoci noi fate attenzione al buio cuccioli a presto a presto fantastico a presto a presto perfetto a presto a presto a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Presa del drone. Premi questo dentro la zona... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ben fatto! Rocky, puoi prendere una scorciatoia lungo questo vicolo per raggiungere il generatore più in fretta. Sky, usa l'elicottero! Grazie a tutti. 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 Rocky, usa i tuoi attrezzi per riparare i generatori. Continua così. Trova più biscottini che puoi. Grazie a tutti. Ben fatto! Grazie a tutti. Fantastico! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aggregare a tutti. Apprezzi di Rocky, usa questo per punt — sigma, è. Poi… conieli a guy. Assim anche qui. Grazie. 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 Apprezzi di Rocky. Usa questo... Grazie. Ecco il problema. I fusibili del pannello elettrico sono scomparsi. Sono scomparsi quattro fusibili. Devono essere saltati via dal pannello. Dobbiamo... Rocky, quando li avremo trovati tutti... Eccellente. Hai trovato il primo fusibile. Ottimo. Ne hai trovato un altro. Gli altri non possono essere lontani. Il terzo fusibile. Non arrenderti. Ne manca solo uno. Spettacolare. Spettacolare. Hai trovato tutti i fusibili. Rocky, ora puoi riparare il generatore. Fantastico. Un lavoro straordinario. Ce l'hai fatta!